Padre Cordeschi, la Tendopoli quest'anno è arrivata alla 34esima edizione, non sono poche ed è dedicata alle periferie, perché il problema di oggi sono forse proprio le periferie. Sì, le periferie, ma non soltanto perché sono un problema, siamo convinti che le periferie sono una risorsa. Le periferie dicono, parlano di incompiuto, indivenire. Il Papa ci insiste molto, perché la periferia è qualcosa che sta accadendo, non è ancora compiuto ma deve diventare. Ed è importante allora che le periferie diventino, come noi abbiamo messo nella tematica, grembo, che diventino il luogo della vita, perché spesso nei centri abitati la vita non c'è più, c'è commercio, c'è stress, c'è di corsa. Nella periferia si aspetta, si aspetta che qualcosa accada e questo è bello. E non è un caso che a chiudere la Tendopoli ci sarà il cardinale Gionigi Tettamanzi, ex arcivescovo di Milano, uno che ha dato molto spazio alle periferie, tanto che è stato definito quasi un cardinale di sinistra. Al di là della definizione che hanno dato che si possa dare a questo eminentissimo personaggio, io credo che la scelta è providenziale. Ha subito accettato, perché credo che sia ritrovato in questo tema, è incredibile, è voluto venire perché vuole parlare ai giovani, il nuovo accadrà dove l'uomo si mette in discussione, dove l'uomo esce dal suo guscio, dalle sue sicurezze, dal suo bunker e si mette in cammino. Il santuario di San Gabriele della Dolorata non ha bisogno di animarsi, però in questi quattro giorni forse si anima in maniera particolare dal 19 al 23 di agosto. È una delle cose più belle, abbiamo avuto tante testimonianze in questi 34 anni di vita, di vedere proprio come gioisce San Gabriele nel vedere i giovani intorno a lui. E i giovani stessi si ritrovano, lo dicono spesso, il santo ci chiama San Gabriele perché lui ha da dirci una parola nuova, bella, significativa. E anche in questo senso San Gabriele è un uomo di periferia, anche San Gabriele. San Gabriele ha lasciato la sua bella spoleto, il suo bel vivere tranquillo, si è rilegato in un convento e in convento non era ritenuto un chissà quale saggio personaggio o santo personaggio. Spesso i compagni lo prendevano in giro per la sua semplicità, umiltà e è diventato grande. La periferia che diventa segno, che diventa grande.